ci benvenuti e benvenute a questa nuova questo nuovo aggiornamento del campus del cambiamento un aggiornamento importante spiegheremo i motivi della campagna artefici 2022 ecco a parte questo stacchetto iniziale faccio questo video per raccontarvi brevemente quali sono i motivi perché e per come della campagna che abbiamo lanciato questo mese come campus del cambiamento che vuole essere una scuola permanente di educazione al cambiamento alla transizione per cambiare in meglio la nostra vita quella di chi ci sta intorno della comunità che ci sta intorno ovviamente infine del mondo l'idea è questa noi siamo circa 35 mila persone se neanche il 10 per cento di queste mille persone scelgono di fare un viaggio insieme per esplorare altre possibilità altri strumenti abbiamo sicuramente un impatto diverso come funziona nei prossimi 30 giorni vediamo chi alza la mano e dice io ci sono chi ha voglia di fare questo viaggio con noi a seconda di quanti saremo minimo 300 abbiamo preparato una scaletta se saremo 300 inizieremo avere la possibilità di accedere gratuitamente a tutti i corsi del campus del cambiamento se arriveremo a 350 organizzeremo un evento al mese ispirazionale e saranno incontri attivi per parlare mettere in pratica questi tempi se arriveremo a 400 abbiamo identificato due percorsi importanti su cui vogliamo concentrarci saranno quadrimestrali uno sulla comunicazione non violenta e uno sulla filosofia a 500 realizzeremo due classi interattive le classi interattive sono il diciamo il cuore del nostro il cuore della nostra modalità insomma di concepire incontri tramite gli strumenti digitali che poi portano verso degli incontri dal vivo è una modalità che rende accessibile un contenuto che ci consente di esplorarlo per poi decidere se approfondirlo e poi nei passaggi successivi a 600 altre due a 700 altre due quindi se arriviamo a 700 sei classi interattive durante l'anno l'accesso ai corsi funzione autonoma i due percorsi quadrimestrali su comunicazione non violenta e filosofia un evento ispirazionale ogni mese boh se poi arriviamo a mille speriamo anche di più tutti gli incontri che faremo anche workshop laboratori e faremo la carovana che abbiamo fatto l'anno scorso quindi un evento itinerante non ci pensate troppo se vi piace l'idea immagine con un piccolo contributo mensile realizzeremo questo programma a non c'è rischio perché partecipando alla campagna se non raggiungiamo il numero minimo ovviamente c'è rimborso totale fino al 15 febbraio quando vuoi te ne puoi tirare fuori più di così bene con questo è tutto e di avervi dato un'idea i dettagli li trovate nella pagina dedicata che si chiama artefici grazie a tutti quelli che hanno aderito fin qui a tutti coloro tutti e tutte coloro che hanno fin qui alzato la mano per dire ci sono detto questo grazie ancora e spero di vedervi arrivare e fare questo viaggio questo veliero stupendo che abbiamo immaginato insieme dai che sia veramente un 20 22 di grande impulso creativo di bellezza e di cambiamento indipendentemente da un abbraccio